La Torrese raggiunge il Sambuceto al secondo posto, battendo per 4-1 proprio la squadra di Delzotti, il quale subisce una sconfitta dopo due pareggi consecutivi. Fischia il signor Sassano di Padova. Al quarto minuto Kruger prova una conclusione debole e a lato. Al ventesimo minuto prima grande occasione per la Torrese con Maio il quale si fa respingere il tiro da Dedeo da ottima posizione. Ancora Torrese al ventisettesimo che sfiora il gol con una conclusione di Pietro Paolo. Ma al ventinovesimo alla prima vera occasione il Sambuceto passa in vantaggio con un'incornata di Fabio Lalli sulla punizione di Nardone. Al trentanovesimo Chiacchiarelli si fa respingere il tiro da un difensore e sul corner arriva il pareggio di Chiacchiarelli che sorprende Dedeo direttamente da corner. Al minuto trentasei Chiacchiarelli manda a lato dopo il suggerimento di Maio. Un minuto più tardi ci prova Maio con un tiro debole facile per Dedeo. Al trentottesimo arriva una doppia occasione per la Torrese con Chiacchiarelli che colpisce il palo sull'uscita di Dedeo e poi con Maio che sbaglia a porta sguarnita. Al quarantacinquesimo arriva il gol del vantaggio della Torrese di Pietro Paolo che batte l'incolpevole Dedeo. Si va a riposo sul 2-1. La ripresa si apre con un'occasione al quarto minuto per il Sambuceto su un corner battuto da Nardone e Bruno salva sulla linea. Al decimo minuto Chiacchiarelli si trova a tu per tu con Dedeo, non fallisce e fa 3-1. Al quindicesimo Chiacchiarelli sigla il quarto gol, il terzo personale dopo aver dribblato il portiere avversario. Al diciannovesimo la Torrese rimane in dieci per l'espulsione di Kruger. Al ventiduesimo Legnini prova da lontanissimo, la balapalla si perde sul fondo. L'ultima occasione della gara è sui piedi di Puglia che dopo un'azione solitaria si fa respingere il tiro da Dedeo. Mister, grandissima vittoria della sua squadra a conferma della prima vittoria stagionale in trasferta contro l'Acqua e Sapone. Sì, sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile, sapevamo di affrontare una squadra organizzatissima, una squadra che ha dei valori, non a caso era seconda in classifica. Noi dal canto nostro avevamo l'entusiasmo di due vittorie di fila, la prima stagionale fuori dal nostro impianto e penso che oggi la squadra dopo essere partita un po' contratta ha saputo reagire anche al gol preso e penso che abbiamo fatto una grandissima prestazione ma veramente tutti, da chi è subentrato, da chi è partito dall'inizio, sono veramente soddisfatto ed orgoglioso di questi ragazzi. Una sconfitta che conferma il momento no della sua squadra, anche dopo aver giocato un buon primo tempo, poi cosa è successo nel secondo? Il momento no? No, assolutamente non credo questo perché veniamo da cinque partite imbattuti e se due pareggi contro due ottimi compaggini come il Cupello che forse sono sei partite, ha fatto cinque vittorie in sei partite e l'Alba Riade che sono tredici partite che non perde. si può considerare un periodo negativo e non credo. Tornando a noi, il calcio è fatto anche di queste cose, dispiace perché sembra che non siamo stati bravi a reagire ad un evento positivo e qual è stato il gol. Dopo il gol ci siamo abbassati e poi qui veniamo ad affrontare una squadra che fa del suo campo il proprio fortino, quindi c'è da fare i complimenti a loro e noi dobbiamo ripartire subito e dobbiamo essere bravi a reggire a questa sconfitta.